In occasione della giornata internazionale della donna, la consulta regionale delle elette in collaborazione con Agis ha proposto la proiezione del film Sette minuti di Michele Placido per le studentesse e gli studenti degli istituti di primo e secondo grado del Piemonte. Il film, interpretato da Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo e Fiorella Mannoia, affronta i temi dei diritti delle lavoratrici e dell'incertezza sul loro futuro tra caos, logica e giustizia. 13 i cinema coinvolti in tutto il Piemonte. La consulta delle elette ha deciso di proiettare questo film Sette minuti come giorno di riflessione e occasione per riflettere sui diritti delle lavoratrici, quindi sensibilizzare e informare le nuove generazioni sul mondo del lavoro e sulle problematiche che ancora oggi le donne si trovano ad affrontare, che subiscono ancora discriminazioni e la parità dei diritti è ancora lontana e quindi dobbiamo ancora fare un grande lavoro e il nostro impegno sarà orientato in tal senso.